andiamo andiamo dove mi porti? adesso lo vedrai benvenuta nel mio salone di bellezza adesso ti faccio bella una maschera alla panna e i cetrioli per una pelle fresca adesso facciamo la manicure no 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 wow e che cos'altro c'è nel tuo salone? ho il solarium tadaaa indossa gli occhiali istraiati adesso chiudo e accendo sei comoda? sì è una meraviglia mentre ti abbronzi io ti preparo un frullato e dei gancetti eeeh 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 sono i pasticcini no i pasticcini non si sono bruciati e allora da dove arriva questo fumo? il solario! spegniti spegniti un testo e allora? sono bella? dove hai lo specchio? voglio vedermi aspetta aspetta il frullaggio è già pronto? no voglio vedermi allo specchio poi i dolcetti si raffreddano veloce veloce che adesso si raffredda tutto aspetta ma cosa hai fatto? fermati fermati ti ho detto scusami scusami per favore oh mamma io ti aspetta aspetta ben il frullato è magico ti aiuterà sicura? sono di nuovo bella è viva ciao 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 io e mia giochiamo al salone di bellezza questa sarà la tua poltrona questa è la bacinella per i piedi aggiungo l'idrogel mia ti piacerà e queste sono le bacinelle per le mani oh ah 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 Grazie a tutti E questo è perché i tuoi capelli siano i più belli di tutti! E adesso la lampada! A che cosa state giocando? Ho un salone di bellezza! Anch'io voglio! Ottimo! Aspettami qui! Adesso preparo tutto! Questa è la bacinella per i piedi! Levati le pantofole! Ma è vuota! Adesso ci verso l'acqua! Alla prossima! Aggiungo l'idrazol Che bello! Wow! 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 E queste sono le bacinelle per le mani! Dammi! Mi piace! Dammi l'altra mano! Wow! Le palline di gel! Adesso ti sistema i capelli! Ehi! E ora la lampada! Ehi! Ehi! il tuo salone di belle bellezza è il migliore grazie anche a mia è piaciuto ciao ciao